Bruno Gröning, io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning per bambini, giovani e adulti. Capitolo 8 Il grande processo Nonostante tutti questi meravigliosi racconti, c'erano sempre delle energie in azione che volevano a tutti i costi annientare Bruno Gröning. Nel marzo 1955 venne nuovamente incriminato. Venne accusato di nuovo di aver trasgredito le leggi che regolano la professione dei naturopati. Questa volta venne incriminato anche per un altro fatto. Bruno Gröning venne anche accusato di omicidio colposo. Il pubblico ministero sostenne che Bruno Gröning nel 1949 avesse promesso alla diciassettenne Ruth Cufus la guarigione e l'avesse dissuasa dal consultare un medico. Poiché la giovane donna non voleva più lasciarsi visitare da nessun medico morì alla fine dell'anno 1950. Una grave accusa Questa fu naturalmente una gravissima accusa ma Bruno Gröning fu veramente colpevole della morte di questa giovane ragazza? I giornali riportarono titoli della notizia a caratteri cubitali. Il pubblico si agitò. Molti erano convinti della sua colpevolezza. Dopo l'incriminazione scrisse lui stesso una lettera ai suoi amici nella quale prese posizione di fronte alle accuse. Io avrei promesso la guarigione ad una ragazza di 17 anni ammalata di TBC e le avrei impedito di consultare un medico o di farsi ricoverare in un sanatorio. Io sarei colpevole della morte di questa giovane ragazza. Ovviamente le cose non si sono svolte così come sono state esposte. Ai miei amici non è necessario parlarne dettagliatamente. Loro sanno che non prometto mai la guarigione e che non sconsiglio mai di consultare un medico. Nel 1952 sono stato assolto. Non è strano che il caso Cufus che si era già verificato fra la fine del 1949 ed il 1950 non sia stato sollevato nel processo contro di me del 1951-1952 nonostante tutti i documenti fossero già disponibili all'epoca? E non sorprende il fatto che la riapertura dell'inchiesta per ripetere l'istruzione di un processo contro di me coincida esattamente con la notizia resa pubblica che a Murnau il 22 novembre del 1953 era stata fondata all'associazione Grening? Infatti, dal gennaio 1954, con un provvedimento della polizia, numerose guite di comunità ed amici, così come molti soci, sono stati interrogati e sorvegliati. Il caso Cufus Tra i testimoni dell'accusa si trovavano anche due ex collaboratori di Grening, Eugen Enderling e Otto McElbohr. I due fecero di tutto per danneggiare Bruno Gröning e, se fosse stato possibile, per farlo rinchiudere dietro le sbarre. Era stato Enderling a implicare Bruno Gröning nel caso Cufus. Poco dopo il fallimento del suo secondo tentativo di collaborazione nell'anno 1953, andò dalla polizia denunciando i fatti riguardanti Ruth Cufus. Per questa ragione incominciò l'inchiesta. Ma anche McElburg giocò un ruolo decisivo nel caso Cufus e approfittò dell'occasione per realizzare le sue minacce. Gröning lo farò a pezzi, gli romperò tutte le ossa. I fatti riguardanti Ruth Cufus si svolsero esattamente nel periodo in cui McElburg era manager di Bruno Gröning. Nel novembre 1949 a Bad Weisse e nel maggio 1950 a Sakingen. Ruth Cufus soffriva in quel periodo di tubercolosi ad ambedue i polmoni. I medici avevano provato di tutto, ma non erano riusciti ad aiutarla e la ragazza, dopo numerosi trattamenti dolorosi, non voleva più saperne dei medici. Suo padre, un impiegato di banca, il 5 novembre 1949 la portò con sé ad una conferenza di Bruno Gröning a Bad Weisse. Quando Bruno Gröning vide per la prima volta la ragazza, si rese subito conto che non si poteva più aiutarla. Questo egli lo disse anche ad un medico che era lì presente. Ma McElburg lo assillò insistentemente affinché guarisse la ragazza. Da uomo d'affari sveglio qual era, sperava di ottenere dal padre una buona ricompensa e lo convinse che Bruno Gröning avrebbe potuto guarire sua figlia. Così avvenne che dopo la conferenza ci fu un incontro personale tra Bruno Gröning e Ruth Kufus. Gröning incoraggiò la ragazza e raccomandò al padre di farle fare una visita specialistica dopo nove giorni. In questo modo, egli avrebbe voluto che la ragazza si sottoponesse nuovamente alle cure mediche. Il padre promise che se ne sarebbe occupato. Dopodiché, Bruno Gröning non ebbe più per lungo tempo alcuna notizia di Ruth Kufus. Solo nel maggio del 1950, McElburg gli disse che voleva andare con lui a Sakingen dalla famiglia Kufus. Nel frattempo, il padre aveva spedito delle lettere di supplica a Gröning pregandolo per una visita. McElburg non aveva però consegnato queste lettere a Bruno Gröning ma, agendo di propria iniziativa, senza che Bruno Gröning lo sapesse, aveva organizzato un incontro con il signor Kufus. Bruno Gröning fu molto adirato per il comportamento di McElburg. non voleva visitare la famiglia Kufus. Per lui era evidente che non avrebbe potuto aiutare la ragazza. Inoltre, era convinto che lei fosse sotto trattamento medico ma McElburg lo costrinse ad andare con lui. Egli vedeva nell'impiegato di banca Kufus una buona fonte di guadagno e desiderava attingere a questa fonte ma per far questo aveva bisogno di Gröning. Inoltre, con la guarigione della ragazza sperava di farsi pubblicità. Più tardi McElburg sostenne che Bruno Gröning aveva promesso la guarigione a Ruth Kufus ma fu lo stesso McElburg ad assicurare al padre che avrebbe fatto di tutto per convincere Gröning a guarire sua figlia. La peggiore accusa che ora veniva fatta a Gröning era quella di aver proibito a Ruth Kufus di sottoporsi alle cure mediche. Ciò era comunque in contrapposizione al fatto che egli cosa che pure i testimoni dell'accusa al processo confermarono già al suo primo incontro con la ragazza l'aveva rimandata alle cure mediche. Anche in una trasmissione radiofonica nell'autunno del 1949 invitava le persone a lasciarsi esaminare fino alla fine dai medici. Ai bisognosi d'aiuto consigliava di dare fiducia ai loro medici. Ruth Kufus era già stata sottoposta a numerose e dolorose terapie purtroppo senza successo e si rifiutava di sottoporsi ad ulteriori trattamenti. Il 30 dicembre morì a causa della sua malattia. La prima udienza La preparazione del processo durò più di due anni. La difesa di Bruno Gröning fu molto difficoltosa. Tutti i testimoni che lo avrebbero potuto discolpare dalle accuse furono respinti mentre furono ammessi i testimoni dell'accusa. Bruno Gröning non poteva comprendere quanta malvagità e perfidia fosse stata messa in atto contro di lui. Una volta affermò in un interrogatorio E' punibile il fatto che io mostro alla gente la via per riacquistare la salute e per poter ritrovare la strada giusta. Migliaia di persone ritenute ingueribili potrebbero riacquistare la salute se solo ne fossero a conoscenza. Io non faccio altro che far notare alla gente che se vogliono guarire tutto dipende dalla loro stessa volontà e mostro a loro come devono comportarsi per riportare l'ordine in se stessi. E' stato dimostrato migliaia di volte che le persone che seguono il mio consiglio sono ritornate a vivere felici. Con il mio agire non provoco danno a nessuno al contrario dappertutto porto il mio aiuto anche laddove qualsiasi aiuto è stata abbandonata. Alla fine di luglio del 1957 iniziò a Monaco il processo. Dopo tre giorni venne pronunciato dal giudice il verdetto assoluzione per l'accusa di morte colposa e duemila marchi tedeschi di multa per aver trasgredito alla legge che regola la professione dei naturopati. A prima vista il verdetto apparve del tutto positivo. L'assoluzione per l'accusa principale e i duemila marchi di multa non erano una gran perdita. Ma per Bruno Gröning il verdetto fu inaccettabile. Inevitabilmente giunse subito dopo anche il divieto di operare. A causa di un errore del suo avvocato non fu Bruno Gröning a presentare ricorso contro il verdetto bensì il pubblico ministero. Il pubblico ministero chiese che tutto il processo venisse di nuovo dibattuto. La seconda udienza ebbe luogo sempre a Monaco a metà gennaio del 1958. Lo scioglimento dell'associazione Gröning Prima ancora però accaddero dei fatti determinanti nell'associazione Gröning. Nell'ottobre del 1957 ci fu un grande diverbio tra Bruno Gröning e il direttore dell'associazione. Con l'andare del tempo fu sempre più difficile per i membri dell'amministrazione lasciarsi dire qualcosa da Bruno Gröning sebbene quest'ultimo fosse il presidente dell'associazione. Sembrava che avessero dimenticato che questa associazione non soltanto portava il nome di Gröning ma che era stata fondata per sua volontà. Per loro l'associazione Gröning diventava sempre più fine a se stessa. Il suo effettivo obiettivo quello di aiutare i sofferenti e di coprire le spalle a Bruno Gröning venne perso completamente di vista. In un resoconto di 62 pagine sull'attività dell'associazione Bruno Gröning trattò tutti i punti nei quali era stato danneggiato dall'associazione. Riassumendo spiegò Se oggi faccio un paragone fra le persone che mi circondavano prima gli affaristi in Meckelburg Enderlin Schmidt ed Usman e coloro che mi circondano adesso e i membri del consiglio di amministrazione allora giungo alle medesime conclusioni. Oggi siamo arrivati agli stessi risultati di allora. Oggi attraverso coloro che volevano essere i miei più grandi stretti e migliori amici non è successo altro che è quello che successe allora quando mi avevano imbrogliato degli sporchi mestiranti. Oggi hanno fallito gli amici per il fatto che sono rimasti tranquillamente a guardare mentre io subivo processi e sentenze per il fatto che non ho ricevuto nessun aiuto per il fatto che non potevo visitare le mie comunità senza un'automobile per il fatto che non hanno intrapreso nessuna iniziativa contro la campagna d'odio della stampa per il motivo che hanno causato solo confusione per il semplice fatto che non erano presenti quando avevo bisogno di qualcuno e che per la loro istruzione e posizione in questa vita terrena avrebbero potuto e dovuto sostenermi mentre non sono riusciti a capire il motivo per cui io mi trovo qui su questa terra. nessuno nessuno di questi amici si è impegnato per me non hanno lottato per la mia libertà nessuno ha avuto il coraggio di mettersi veramente dalla mia parte per difendermi non è successo niente meschinamente burocraticamente hanno preso una decisione dopo l'altra nessuno mi ha veramente difeso nessuno si è sforzato veramente impegnandosi completamente con tutte le proprie forze per sollevarmi finalmente da tutte le battaglie nei processi contro la stampa per darmi un qualsiasi aiuto se fosse trattato dell'automobile che era rotta o delle rciume e delle calunnie nessuno si è messo a disposizione in modo che potesse occuparmi della causa per cui io sono qui su questa terra per trasmettere agli uomini la forza vitale e per condurre agli uomini alla fede poiché necessito di tranquillità e di non essere sempre impedito dagli eventi mondani da influssi esterni ho bisogno di un vero baluardo difensivo per poter agire indisturbato con ciò che mi viene dato e a questo nessuno ha pensato nessuno dei miei amici o di coloro che vogliono essere i miei amici e questa è la cosa per me più umiliante e deludente gli uomini d'affari vogliono trarre solamente profitto e sono riconosciuti come uomini malvagi gli amici dell'associazione Creni sono troppo fiacchi troppo indifferenti troppo indolenti non voglio dire malintenzionati il risultato è lo stesso io non sono diventato libero molti amici della direzione dell'associazione non hanno mantenuto le loro promesse tutte le misure prese nei miei confronti mi hanno solo messo il bavagno Bruno Gröning dispose lo scioglimento dell'associazione Gröning al suo posto subentrò il circolo per la promozione del principio psichico-spirituale e naturale di vita fu fondato nel 1958 e nel suo ordinamento non venne mai più menzionato il nome di Bruno Gröning ma anche questo ultimo circolo fondato quando Bruno Gröning era ancora in vita non realizzò ciò che lui aveva sperato la sua parola sconfigge la malattia durante questi conflitti e battaglie l'attività di Bruno Gröning continuò così racconta il dottor Horst Mann nel 1957 in una serie di articoli appuntate nella rivista Das Neue Blatt dal titolo La sua parola sconfigge la malattia il mattino seguente andai da Amelna Springe una piccola cittadina sul fiume Deister anche qui si era formata una comunità di Gröning la guarigione di una serie di persone era stato il punto di partenza anche qui fui testimone come già prima in diversi altri posti della regione Schleswig-Holstein ad Augusta ad Amelna a Vienna a Plockingen ed in altre città le persone si alzavano e mi raccontavano delle loro malattie mi nominavano i medici chi le avevano curate mi raccontavano della loro guarigione per la quale erano riconoscenti a Gröning ed erano sempre pronti ad alzare la mano per affermarlo sotto giuramento già da neonata avevo la lussazione dell'anca ad ambedue le gambe raccontò la cinquantenne Julie Pronert di Hannover crescendo potevo camminare solamente con le stampelle il medico riusciva soltanto ad alleviare la mia sofferenza quando ascoltai una conferenza del signor Gröning ebbi una forte reazione la mia schiena che ormai era già completamente curva si raddrizzò potevo camminare di nuovo non ebbi più delle ricadute io avevo reumatismi alle articolazioni e venivo regolarmente tormentato da eruzioni cutanee pustole ed ascessi il signor Gröning mi ha liberato da tutto ciò raccontò Willen Gabbert di Amen i miei dolori alla cistifelia potevano essere sopportati solamente con la morfina narrò Kurt Severit di Everschdorf ringrazio Bruno Gröning che mi ha liberato da questa sofferenza io avevo un alto contenuto di zuccheri nel sangue raccontò Robert Tios di Spring ma ancora più grave era l'indebolimento della muscolatura del mio cardio ambe e due questi mali non mi recano più fastidi per questo ringrazio il signor Gröning questo elenco potrebbe continuare erano persone di ogni età che raccontavano uomini donne e bambini furono elencate numerose malattie a partire dal mal di testa passando dalle infiammazioni nervose al nervo sciatico sofferenze renali e della cistifelia fino alle insufficienze cardiache e dalle paralisi ma c'era qualcos'altro che mi commuoveva profondamente qui molti raccontavano apertamente davanti a tutti che attraverso Bruno Gröning avevano subito un cambiamento interiore che l'atteggiamento egoistico e la caccia al successo avevano lasciato il posto ad una pace interiore alla calma e ad un pensiero di comunione attraverso tutti questi colloqui con le persone che si sentivano guarite da Bruno Gröning una certa domanda si faceva sempre più insistente in me il successo della guarigione era possibile per chiunque o ancora più audacemente era possibile per ogni malattia dove si trovavano i limiti della forza che scaturiva da Gröning non c'erano dei pericoli durante l'ultima mia visita gli posi questa domanda io non posso e non voglio costringere nessuno mi rispose quando qualcuno si chiude e non possiede la prontezza di sviluppare la forza che porta all'ordine allora viene a mancare anche a me la disponibilità di intervenire io esorto solamente queste persone a forzare il catenaccio del male che impedisce la salvezza la guarigione avevo ancora una domanda ogni malattia è pericolosa in maniera diversa disse io prendiamo in considerazione un malato grave già dato per spacciato da più dottori e lei viene fatto chiamare da un medico che ancora vuole lottare per i suoi pazienti lei è nella condizione di poter aiutare si disse Gröning e lo disse senza esitare se la malato crede ed il medico ha fiducia nei suoi metodi il successo non mancherà la fiducia reciproca svilupperà nel paziente una forza inaspettata spesso proprio in questi casi il successo arriva velocemente quando la persona malata disperatamente si aggrappa all'ultimo filo di speranza lo svolgimento del processo nel gennaio del 1958 ci fu di nuovo un processo a Monaco la posizione di Bruno Gröning era molto sfavorevole poiché non lui ma il pubblico ministero ricorse in appello ma non fu solo questa negligenza del suo primo avvocato a danneggiarlo infatti Bruno Gröning aveva trovato un nuovo avvocato ma il primo era stato molto riluttante a consegnargli il materiale degli atti del processo in questo modo egli impedì in maniera decisiva una buona preparazione del nuovo avvocato i testimoni d'accusa si presentarono questa volta molto più sicuri che non durante la prima udienza sembrava che si fossero messi tutti d'accordo sul caso Cufus a proposito del divieto di andare dal medico questa volta la sentenza decise otto mesi di reclusione per omicidio colposo e cinquemila marchi tedeschi di multa per trasgressione della legge che regola la professione dei naturopati la pena fu sospesa con la condizionale ciò significava che Bruno Gröning non doveva andare in prigione ma per alcuni anni avrebbe dovuto avere una buona condotta se in questo tempo non si fosse più reso colpevole la pena sarebbe stata scontata ma non successe così Bruno Gröning non poteva accettare il verdetto e il suo avvocato presentò ricorso contro la sentenza doveva quindi esserci un nuovo dibattimento la signora Annie Freim Ebner von Eschenbach che fu testimone sia dell'udienza del luglio 1957 che di quella del gennaio del 1958 apostrofò il verdetto come un disonore per la Germania Bruno Gröning era molto deluso ed indignato egli soffrì amaramente del fatto di venire condannato solamente per aver commesso del bene lo addolorò anche il fatto che durante tutto il processo nessuno si fosse interessato seriamente a come avveniva una guarigione nemmeno il suo stesso avvocato se avesse avuto l'opportunità di spiegarlo si sarebbe potuto constatare che il suo operare non aveva niente a che fare con la legge sui naturopati il processo non avrebbe avuto in tal modo alcuna validità ma al palazzo di giustizia non interessò a nessuno avevano un'idea preconcetta sulla figura di Gröning e non erano disposti a cambiarla la data per il ricorso in appello fu stabilita per il 22 gennaio 1959 nel frattempo accaddero dei fatti tragici nella vita di Bruno Gröning di giustizia